Non mi risulta che nel passato sia avvenuto che quando la sinistra era al potere abbia consultato l'altra parte. Comunque, voglio dire, si tratta di un terreno assai delicato che non va politicizzato e secondo me Bersani sbaglia a politicizzarlo. Siamo curiosi di sapere qual è il suo candidato che tiene di riserva.